Allora, passiamo al terzo punto che è l'ultimo, la mozione a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Ciancio e Gugliotta, 20 oggetto, disponibilità locali e municipali per ospetare uno sportello antiviolenza. Relatore, consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente. Avevamo presentato questa mozione nello scorso consiglio come mozione urgente, ma appunto a proposito di regolamenti non era più possibile in questa sede presentare una mozione urgente, quindi forse fuori tempo massimo, ma speriamo di no, ci ritroviamo a discutere oggi della mozione avente ad oggetto disponibilità dei locali del municipio per ospitare uno sportello antiviolenza. Un tema che torna spesso in quest'Aula e sul quale ci aspettiamo la massima disponibilità e partecipazione da parte della maggioranza. Senza andare diciamo alle premesse di carattere storico, la convenzione di Istanbul e il fatto che nella nostra città ancora troppe donne sono vittime di violenza in casa e fuori, questa mozione parte dal fatto che la Regione Lazio, proprio al fine di prendere in carico le donne vittime di violenza e dei loro figli minori, ha approvato con una deliberazione nel 2016, ad ottobre, quindi pochi mesi fa, le linee guida con le quali sono stati definiti i requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio e ha definito tra le attività da porre in essere per il contrasto al fenomeno l'istituzione di nuovi centri a livello regionale. Nello specifico la Regione Lazio ci ha detto che nella città di Roma è opportuno istituire nuovi otto centri antiviolenza e tre case rifugio e a questo fine ha pubblicato un avviso pubblico su questo tema, i cui beneficiari sono gli enti locali. Su questo noi avevamo fatto anche una richiesta alla Regione Lazio per esplicitare se per enti locali nel caso del Comune di Roma si ritenessero anche i municipi, ma invece si ritenevano per il bando della Regione solamente i comuni e quindi doveva rispondere a questo bando il Comune di Roma. A seguito dell'emissione di questo avviso pubblico Roma Capitale ha inviato una richiesta a tutti i municipi affinché appunto i municipi facessero una ricognizione e offrissero la disponibilità dei propri spazi pubblici per ospitare uno sportello territoriale antiviolenza. Ecco, alla luce del fatto che come sappiamo, perché l'abbiamo già discusso tante volte, il nostro municipio nonostante sia uno dei più popolosi ed estesi di Roma non possiede nessun presidio a sostegno delle vittime di violenza e dei loro figli e che da tanti anni i cittadini del nostro municipio, in particolare i cittadini del quadrante Appio Latino, alcuni dei quali sono anche in aula e voglio sinceramente ringraziarli per l'impegno che va avanti da anni e da molto prima che si costituisse quest'aula, da anni chiedono l'attivazione di uno sportello sul proprio territorio e a tale scopo è stata fatta anche lo scorso anno una raccolta di firme che ha ottenuto già centinaia di consensi per appunto istituire uno sportello antiviolenza, uno sportello di ascolto come sostegno concreto alle donne del nostro territorio e inoltre è importante ricordare che il nostro municipio nella precedente consigliatura si era già reso disponibile ad ospitare uno sportello presso la sede di Villa Lazzaroni e aveva già individuato degli spazi idonei perché chiaramente questo è un servizio che necessita di spazi idonei e soprattutto di privacy. Ecco, alla luce delle richieste dei cittadini di una battaglia che il Partito Democratico porta avanti da anni all'interno di questo territorio e della possibilità offerta dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma di individuare gli spazi anche all'interno delle sedi del nostro municipio, noi vorremmo con questa mozione impegnare la Presidente e l'assessore competente nella speranza, dico la verità, che lo abbia già fatto e quindi che non segua a questa mozione ma avevamo la necessità di conoscere quali sono le intenzioni della maggioranza e dell'amministrazione su questo tema, di dare quindi mandato al Direttore e agli uffici competenti al fine di avviare una rapida ricognizione degli spazi disponibili per ospitare uno sportello antiviolenza presso il nostro municipio e a verificare innanzitutto se esistono ancora le condizioni per utilizzare lo spazio che era stato individuato precedentemente presso la sede di Villa Lazzaroni. Grazie. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Consigliere Lazzazzara? Io ho preso degli stralci dei verbali delle commissioni delle elette della scorsa consigliatura e l'argomentazione è sempre la spessissimo violenza sulle donne. Allora io parto dal 24 luglio 2013 quindi sarò molto breve Allora a tale scopo, cioè per ripetere quante volte sono state dette le stesse cose in questi anni dette, ridette ma poi non fatte quindi io adesso vi elenco tutti questi stralci Quindi a tale scopo si potrebbero avviare e sperimentare servizi di assistenza ed orientamento quali sportelli di ascolto per le donne La cosa basilare è promuovere la creazione di sportelli antiviolenza per le donne Quindi è fondamentale l'istituzione di sportelli dedicati nei municipi con lo scopo proprio di ascoltare le donne 2013 2014 La commissione decide di redigere un atto in tal senso si propone di attivare uno sportello di ascolto antiviolenza presso i locali dell'ex nono municipio chiedendo un incontro con il direttore per avere i locali necessari 4 febbraio 2014 13 febbraio 2014 è necessario pensare di lavorare sull'apertura di uno sportello antiviolenza sul territorio dell'ex nono municipio l'assegnazione avverrà attraverso procedura amministrativa di evidenza pubblica Dopo un anno 2015 abbiamo lo stesso problema una consigliera afferma che l'anagrafe del patrimonio immobiliare è uno strumento utile per l'individuazione di spazi da utilizzare Dopodiché c'è e questo mi ha un po' aspetta segue ampio dibattito sulle modalità per la ricerca di strutture utili al progetto dello sportello antiviolenza Per finire c'è una frase che un po' mi mi lascia un po' perplessa questo dopo due anni di discussioni continue la Presidente ritiene che l'elemento prioritario sia una progettazione condivisa successivamente avverrà la ricerca di strutture idonee quindi dopo aver discusso tantissimo aver fatto commissioni su commissioni eccetera nel 25 febbraio 2015 si ritiene ancora di progettare e quindi poi successivamente di cercare delle strutture e qui chiudo dicendo soltanto che dopo tre anni non è successo niente avendo anche la maggioranza in tutto nel municipio, nel comune, nella provincia, nella regione, nello Stato ed ecco siamo ancora qui quindi adesso ci siamo noi vediamo cosa possiamo fare grazie quindi questo è il mio intervento io ringrazio chi ci ha fatto insomma un bel elenco delle cose che abbiamo fatto negli scorsi anni però le mozioni ha detto scusa però diciamo oggi vi ricordo che governate voi e oltre a dire quello che abbiamo fatto negli anni passati o detto negli anni passati ci farebbe piacere sapere ma non solo a noi un po' a tutti vi assicuro che cosa volete fare voi ci tranquillizzerebbe anche semplicemente sapere che siete d'accordo con le cose che dicevamo prima poi magari vorremmo anche capire come decidete di farle le cose però è prioritario capire qual è l'indicazione di questa amministrazione perché quella che c'era prima se guardiamo con gli occhi dietro invece che guardare avanti credo che abbiamo un problema diciamo temporale ecco la mozione fa riferimento ad un avviso pubblico che è stato appunto lo diceva prima la consigliera Biondo pubblicato dalla regione Lazio apre a delle possibilità anche nella città di Roma e in particolare vista la volontà di alcuni municipi anche della necessità di fare una ricognizione e una possibile apertura dentro strutture o spazi che il municipio potrebbe indicare questo faciliterebbe quelle associazioni quelle strutture che da anni sono impegnate nel contrasto alla violenza di genere ma soprattutto aiuterebbe tutte quelle associazioni che diciamo sono vorrebbero dare un contributo nuovo quindi preso atto che nelle precedenti consigliature c'era una volontà detta avevamo accolto anche le firme di perché poi ci sono i cittadini ci sono per tutti insomma di chi aveva deciso spontaneamente di sostenere quel progetto è per questo che si parlava di progettualità perché prima occorre capire che cosa si vuole fare e se è corrispondente ad i bisogni e era assolutamente corrispondente visto che ne abbiamo parlato prima c'è un pezzo del nostro municipio che si trova in difficoltà in particolare le manca un pezzetto guardi l'aggiungo perdiamo nel corso del 2014 lo sportello SOS Donna nel nostro territorio fu una scelta che criticammo come consiglio perché ci rendemmo conto che il comune di Roma ragionava in termini solo ed esclusivamente di spesa non tenendo conto che quello era un servizio rivolto alle persone che da decenni era sul nostro territorio che non si poteva pensare che togliere quel servizio non avrebbe reso ancora più difficile per le donne che cercavano un luogo dove andare a parlare dove rifugiarsi magari perché avevano subito una violenza soprattutto perché quello era un contatto riconosciuto che aveva instaurato dei rapporti decennali ma detto questo tanto più l'impegno era quello di evitare che il comune di Roma pensasse di poter tagliare sui servizi e cercare invece di implementarne soprattutto nei territori che ne erano improvvisamente addirittura sguarniti cioè ce ne hanno levato anche l'unico che avevamo era per questo che ci avevamo apprezzato la necessità di guardare a quel pezzo di ex nono municipio quindi la parte dell'appio latino proprio perché era nata dal basso e dalla necessità di alcuni cittadini di porre all'attenzione dell'amministrazione municipale questa possibilità e quindi quando ci è pervenuta in questa occasione quindi pochi giorni fa la possibilità di fare una ricognizione di capire se ci sono ancora le disponibilità visto che stiamo facendo una riorganizzazione degli spazi io non ci vedo niente di male e non ne capisco veramente la polemica nel capire si vuole fare si vuole aprire ad una disponibilità di questo tipo sì o no perché ogni volta ci dobbiamo sentir dire quello che avete detto voi quello che avete ne avete parlato mi fate l'elenco io non capisco mai quello che invece volete fare voi ah mo ce lo dicono grazie grazie no perché sai detto questo detto questo se invece diciamo ci mettiamo soprattutto su questi temi a fare un lavoro insieme senza metterci sempre qualche polemica sopra ma si creano quelle condizioni perché ce lo diciamo sempre no perché il tema della violenza sulle donne non deve essere un tema che ci deve vedere tutti uniti bene allora invece di fare interventi polemici ma perché non si va nel merito della questione e si capisce se è o meno opportuno lavorarci sopra oppure evitare detto questo non so se appunto c'è stata già la possibilità di capire se ci sono ancora delle disponibilità di spazi lì non so se il direttore appunto ha già provveduto e questo era il motivo dell'urgenza come spiegavano prima nel caso fosse veramente io non posso che apprezzarla favorevolmente questa cosa e ribadisco io non voglio fare le polemiche però veramente il partito democratico l'ha già dimostrato all'inizio della consigliatura quando presentò un atto su questo ha messo tutta la sua disponibilità a discutere in questo senso quindi auspico che la discussione diventi sempre costruttiva e mai una discussione in cui tocca sentirci dire tutto quello che è successo negli anni precedenti quindi mi auguro che i prossimi interventi ci aprano finalmente la strada su quello che c'è intenzione di fare questa benedetta amministrazione Interventi Sì consigliere Principato Grazie presidente colleghi consiglieri allora io vorrei sono stati toccati diversi punti da parte della consigliera che mi ha preceduto e quindi ritengo opportuno chiarire un po' quello che è successo nel tempo allora relativamente alla proroga sui servizi dei centri d'ascolto e al servizio SOS Donna vorrei ricordare come è già stato spiegato in quest'aula sono disponibili delle prove dei filmati insomma che attestano questo che non è stata concessa la proroga perché la gestione commissariale quindi non Movimento 5 Stelle quella precedente al Movimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno dare priorità ai centri che prestavano servizio d'ospitalità e inoltre il servizio offerto era già espletato dal numero 1522 che e quindi era un duplicato di una voce di spesa quindi questo per chiarire solo quel particolare perché non è andato esattamente così relativamente alla richiesta di capire qual è la nostra posizione su questo perché adesso siamo noi a governare vorrei essere il più trasparente e il più chiaro possibile innanzitutto richiederei ma con estrema cortesia e senza alcun tipo di polemica una maggiore attenzione a chi prepara un intervento di questo tipo e una maggiore volontà di informarsi prima di fare un intervento di questo tipo perché è stata fatta una memoria di giunta il 20 gennaio 2017 e la giunta di questo municipio ha emanato una memoria recante oggetto partecipazione all'avviso pubblico per l'accesso ai contributi regionali finalizzati all'istituzione e gestione dei nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio per il sostegno a donne, sole o con figli minori vittime di violenza con questa memoria la giunta ritenendo di fondamentale importanza la partecipazione di Roma Capitale all'avviso pubblico chiede all'assessorato competente di Roma Capitale di porre in essere quanto di competenza al fine di procedere con la predisposizione di tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie per lo sviluppo della proposta progettuale da presentare in risposta all'avviso pubblico di cui in oggetto dando mandato agli uffici competenti tenendo conto che la data ultima di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2017 entro le ore 12 e che non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine quindi diciamo è stato proprio il nostro municipio a sollecitare la nostra amministrazione comunale ad intervenire rapidamente e immediatamente per partecipare all'avviso pubblico perché la partecipazione come spiegava prima la consigliera è prevista a livello comunale questo scatena poi un'operazione successiva da parte della direzione del dipartimento comunicazione che scrive una nota ai direttori e ai presidenti di tutti i municipi il direttore qui ce lo può confermare alla direzione acquisizione e consegne del dipartimento patrimonio sviluppo e valorizzazione e per conoscenza all'assessorato alla persona nella quale richiede a tutti i municipi di procedere a una ricognizione degli immobili destinabili all'apertura di nuovi centri antiviolenza e comunicare gli esiti entro il 27 febbraio il 14 febbraio il direttore del municipio mi corregga se sbaglio trasmette alla presidenza del municipio copia della nota in cui il dipartimento comunicazione richiede di anticipare la comunicazione sulla disponibilità degli spazi a seguito dell'intendimento della regione Lazio di prorogare di un solo mese la disponibilità degli enti locali a partecipare e così il giorno successivo 15 febbraio la presidente risponde tempestivamente al direttore che qualora nella riorganizzazione degli uffici che vorrei ricordare a tutti è ancora in corso anche se probabilmente in una fase finale dicevo nella riorganizzazione degli uffici dovesse risultare libero uno spazio lo stesso potrebbe essere senz'altro utilizzato lo scopo e il 17 febbraio il direttore del municipio a seguito di questa nota interviene immediatamente scrivendo una nuova nota alla direzione del dipartimento comunicazione informando il dipartimento della riorganizzazione in corso degli uffici e degli spazi nel nostro municipio ipotizzando al termine la possibilità di individuare nella sede di Forti Fiocca quindi già indicando una sede ben precisa gli spazi da mettere a disposizione per l'apertura di un centro antiviolenza quindi per concludere il comune parteciperà al bando della regione Lazio e ha chiesto per questo ai municipi tramite il dipartimento gli spazi disponibili sul nostro municipio quindi il 16 febbraio in realtà il PD deposita questa mozione impegnando la presidente e l'assessore competente a realizzare qualcosa che è già stato fatto sono state attuate tutte le misure nelle nostre competenze nelle nostre possibilità per poterci attivare immediatamente al più presto possibile per cercare di realizzare questa cosa che per noi è di fondamentale importanza come abbiamo dimostrato anche in passato per questo motivo diciamo viene proprio meno questa sollecitazione in quanto tutto quello che era possibile è stato fatto e attivato immediatamente con l'attenzione massima del nostro gruppo consigliare della presidente del municipio dell'assessore di riferimento dell'assessore comunale quindi abbiamo attivato tutti gli attori possibili e immaginabili per fare a più presto e ci auguriamo che presto riusciremo ad ottenere questi fondi e a realizzare immediatamente a più presto possibile questo tipo di struttura noi saremo funzione di controllo anche in questo insieme a voi quindi massima disponibilità a verificare che tutto si svolga correttamente nel minor tempo possibile grazie consigliere Giuliano grazie presidente riprovo a intervenire pensavo che prima non c'era il collega invece rientrato speriamo che mi fa parlare allora dicevo chapeau collega principato no non c'è niente da ridere allora chapeau collega principato perché ha fatto veramente un intervento dove non ci sarebbe nulla da aggiungere però io voglio voglio mettere qualcosina in più perché non è non è da me difendere la collega Vidrotti ma bisogna anche capire un pochettino come nasce un certo tipo di ragionamento forse voi come si dice non sapete il trascorso o se l'avete visto forse non vi ricordate quindi quello che avete detto è perfetto a partire dall'altra collega c'è ovviamente una sensibilità ed è fatto dei passaggi precisi i tempi sono precisi e quindi non c'è dubbio di nulla quello che prima la collega diceva è che ovviamente quando nella scorsa consigliatura c'era lo stesso una certa attenzione da parte di quest'aula quindi non solo dal PD ma da parte di tutte le forze che hanno lavorato e che volevano comunque questo spazio il problema è bisogna dirlo se non l'ha detto lei lo dico io è che comunque c'era una presidente che non ha ascoltato quindi una presidente che non ha fatto ora sembra strano ma loro erano comunque in opposizione alla presidente e quindi probabilmente la presidente Fantino non ha permesso che questa cosa avvenisse come diceva la consigliera prima del suo gruppo dice bisogna lo so scritto progettare successivamente poi programmare dopo due anni bisognava ancora progettare questo è lo scotto che si è pagato nell'avere quella maggioranza dove alcuni poi consiglieri sono resi conto che non avevano spazio non avevano comunque possibilità di azione non avevano manovra politica di poter intervenire sul territorio e quindi non solo il centro antivalenza ma anche altre cose non hanno avuto come si dice realtà e si sono verificate su questo territorio certo però chi più di lei che era presidente della commissione sociale ovviamente questa cosa ha dato fastidio dal punto di vista politico anche io facevo parte di quella commissione e quindi voglio dire ne ho vissuto tutto il percorso e c'era un po' diciamo di immobilismo da parte della giunta da parte della presidente che non teneva conto ovviamente di alcune cose di alcune cose che erano state votate oppure delle cose che erano state richieste quindi questa è la realtà dei fatti purtroppo il percorso è stato questo quindi voi siete stati precisi nello spiegare ma l'esigenza di avere sul territorio una realtà di questo tipo è sempre stato in questo municipio una sensibilità diciamo da parte di tutta l'aula di tutte le forze che hanno rappresentato le scorse consigliature oggi si prova a richiedere ovviamente a questa maggioranza a richiedere da che parte stanno e mi sembra che l'avete esplicitato molto bene l'unica battuta che vorrei fare su questa su questa mozione è che non è così ma è una battuta che dico appunto alla collega che prima ha esposto sembra che siano solo le donne del nono municipio che hanno il problema dell'antivorenza mentre sicuramente ci sono anche quelle nell'ex decimo che hanno questo tipo di problema sembrava ovviamente una cosa fine a se stessa immagino ovvio che sia complessivo e quindi però quando uno legge io farei una correzione in questo senso perché comunque è lo spazio che noi cerchiamo di trovare nell'ex nono ma deve abbracciare ovviamente dal San Giovanni a Vermicino deve abbracciare tutta la problematica e tutto quello che comporta per quanto riguarda il bando ovviamente regionale certo che il nostro municipio ha delle possibilità anche in base a dei criteri che venga scelto anche in base appunto a uno dei criteri fondamentali è la cittadinanza quindi siamo il municipio che ha più abitanti e quindi io penso che questo possa essere però visto che anche appunto la direzione e la giunta hanno dato già indicazioni saremmo prossimi nel effettuare questo sportello in luogo abbastanza ovviamente idoneo e penso che sia comunque lo voglio rivendicare sia una vittoria di tutti se riusciamo a rimetterlo in modo e in funzione visto che appunto era stato come diceva precedentemente il collega era stato diciamo bloccato chiuso dal commissario che lo riteneva un doppione e quindi non ha dato più fondi in questo senso mentre se adesso noi abbiamo questa possibilità la dobbiamo sfruttare proprio per dar ragione all'argomento che è fondamentale e questo municipio non può non averlo grazie grazie presidente allora niente io mi mi domandavo perché poi vabbè come come cittadino nelle istituzioni mi domando mi faccio delle domande e o soprattutto come figlio come figlio di comico che giustamente poi mi domando se il comico è chi lo fa di mestiere oppure chi dice di fare delle cose e poi non le fa ma comunque vabbè detto questo beh io apprendo adesso dal consigliere dal presidente che comunque c'è stato già un iter e questo mi fa piacere però la domanda è questo sempre da cittadino io mi domando di che stiamo parlando a questo punto se c'è un iter già andato giusto ok se c'è già un iter che è stato avviato quindi una memoria di giunta poi c'è c'è stata diciamo il dipartimento poi c'è stato c'è stata la presidente c'è stato il direttore vero giusto no quindi si è creato un iter questo mi dà mi dà la sensazione ogni volta come la famosa mozione che era su Villa Lazzaroni l'altra volta no quindi che ogni volta ogni volta si presenta un qualcosa su cui si sta già lavorando allora la domanda è questa o lo si fa apposta oppure oppure c'è una scarsa informazione perché voglio dire una memoria di giunta credo che siano pubblicate no quindi forse c'è una scarsa informazione perché voglio essere buono sì effettivamente sì voglio pensare bene è una scarsa informazione ma io a parte che potremmo discutere anche sulla scarsa informazione dal momento che ogni consigliere si dovrebbe si dovrebbe si dovrebbe informare sulla storia ma vabbè detto questo la trovo anche una mancanza di rispetto e spreco dei soldi pubblici quando si fanno lavorare gli impiegati su cose che effettivamente già stanno avvenendo e quindi è uno spreco di tempo del personale e siccome che non è la prima volta perché se fosse la prima volta uno lo capirebbe ci potrebbe stare no invece qua si continua ogni volta c'è sempre questa questa forma no per fare come per dire se non l'approvano e tanto però non ce l'hanno approvato e ma noi l'abbiamo già fatto è già attivato c'è c'è tutto un iter allora non capisco scusate io non riesco a capire poi non capisco come il consigliere Giuliano giustamente dice no e a volte magari ho sentito anche il consigliere Stelitano che diceva spesso e volentieri siamo andati contro l'Affantino ma scusate ma se io sono contro l'Affantino e io la sfiducio e scusate ma io non trovo questa cosa io se no ma per carità ma sì ci manteniamo per favore sì no io rispondevo solamente alla cosa perché no spesso e volentieri ci si nasconde dietro queste cose io se dovessi non mi dovessi più riscontrare dentro la mia presidente io la sfiducio domani ma vabbè lasciando perdere questo quindi la volontà anche anche di alcune cose ci abbiamo paura di perdere la portrona è probabile se non la sfiduci sì comunque vabbè non è quello il problema il problema è capire questo che ogni volta ogni volta bisogna perlomeno e si richiede dal momento che i consiglieri vengono pagati almeno un minimo di informazione sugli atti che si stanno portando per non far spendere denaro e far lavorare gli impiegati che potrebbero utilizzarli per fare altre cose grazie ci sono altri interventi allora vedo che c'è il consigliere abbiondo lei alla fine ha diritto sì consigliere toti allora quello della violenza chiaramente è un tema forte sul quale chiaramente oggi stiamo dibattendo e che dovrà avere già delle risposte concrete da parte del municipio da parte della città da parte della regione voglio dire che è chiaro che le donne soffrono ma sono soltanto le donne anche gli uomini io penso agli episodi di bullismo che sono purtroppo diffusissimi e che tante volte sono ignorati e voglio dire rispetto al tema della violenza bisogna fare una riflessione pesante e comunque una mobilitazione pesante come 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 municipio perciò ecco ben venga il discorso dello sportello antiviolenza diciamo la sede a Villa Lazzaroni diciamo positivamente rispetto all'avviso pubblico tutto quello che volete però bisogna muoverci rispetto a questo e purtroppo una riflessione va fatta rispetto anche alla richiesta che sarà fatta nel passato e che io ho apprezzato e che riporto con forza all'attenzione del dibattito municipale è quella dell'ufficio patrimonio degli spazi pubblici perché non pensiamo soltanto allo spazzetto di Villa Lazzaroni e non pensiamo soltanto allo sportello antiviolenza fondamentale importante nella vita per la vita dei cittadini e nella vita dei cittadini del nostro municipio ma pensiamo ai spazi pubblici che abbiamo e che non possiamo utilizzare perché sono stati occupati abusivamente pensiamo a tutti quelli che non pagano l'affitto e perciò tutti i spazi che noi non abbiamo e allarghiamo io penso questo discorso perché il discorso va fatto una riflessione per dare all'associazionismo e in questo caso alle donne ma non soltanto alle donne a tutto l'associazionismo che combatte le varie criticità del nostro municipio e perciò l'aspetto della solidarietà rispetto alla gente del nostro municipio una riflessione più pesante che deve essere fatta chiaramente oggi può partire ma deve essere fatta nei giorni futuri oggi centriamo il discorso dello sportello antiviolenza chiaramente qualcuno ha detto dice nel passato c'era la Fantino io la ricordo la Fantino in nono municipio quando mezzo PD stava con la Fantino e l'altro mezzo PD votava contro la Fantino e penso che la stessa cosa succedeva nel passato sono state il consigliere Ciancio mi diceva delle nuove firme raccolte contro la Fantino forse anche consiglieri non del PD non hanno firmato questa mozione anti Fantino e questa richiesta chiaramente contro la Fantino e voglio dire nel passato così ecco dico nel presente io vedo che c'è una memoria di giunta però ecco bisogna agire con forza e bisogna agire con tempestività rispetto a questo perciò se non scordammo ci ho passato come ho detto più volte il presente il presente esiste il presente esiste avete fatto la memoria di giunta datevi una mossa e cerchiamo ecco di rispettare quelle che sono datevi una mossa in senso positivo rispetto a quello che vogliono le donne e non solo le donne del nostro municipio rispetto al tema della violenza che è una violenza purtroppo diffusa nella società e che chiaramente dobbiamo rispetto a questo porre un'argine forte come settimo municipio perciò voglio dire operiamo però non scordiamo l'altro tema forte che è il discorso di una riflessione rispetto al patrimonio che abbiamo nel settimo municipio e col quale dobbiamo dare risposte alla solidarietà che viene dall'associazionismo nel nostro territorio Consigliere Guido Grazie Presidente il mio intervento è molto breve in realtà io ringrazio ancora una volta il Partito Democratico perché ci presenta un'interrogazione in forma di mozione per sapere delle cose che in realtà sono abbastanza come dire chiare nel senso a parte la memoria di Giunta ma io devo ringraziare soprattutto gli uffici e nella persona del direttore nello specifico perché sono forse un mese e mezzo che facciamo commissioni e capigruppo in cui si dice che nuovi spazi si stanno trovando specialmente a Fortifiocca che poi era il luogo oggetto della mozione diciamo in questo periodo si stanno liberando dei nuovi spazi molti spazi e quindi c'è senza dubbio è nostra intenzione andare in questa direzione quindi per questa parte diciamo che la mozione è già superata è superata anche sulla parte del bando perché insiste nella memoria di Giunta per cui diciamo che è arrivato un po' in ritardo io potrei dire anche un po' pretestuoso forse però non vorrei poi scadere nella polemica però è importante dire seriamente ai cittadini e ringrazio anche per questo la consigliere la Zazia perché all'inizio ci ha fatto una cronistoria di quello che si voleva fare e che non si è fatto quindi non è quello cioè lei non ha riferito quello che è stato detto ha riferito quello che non è stato fatto che è molto più grave quindi io vorrei davvero scendere un po' più nella pratica spero che questa maggioranza abbia la forza ma spero di sì anche perché il consigliere principato prima ci ha esplicato c'è tutti i vari contatti con l'assessore comunale con le nuove di giunta l'interesse del direttore eccetera si sta andando cioè si sta già andando in questa direzione per cui io con forza faccio anche c'è un auspicio che quanto prima questa c'è questa situazione si risolve perché l'Itere è già cominciato davvero mesi fa quindi voglio anche di incorare i cittadini che sono qui oggi c'è detto questo l'atto la mozione del PD è superata per noi non c'è molto senso in questa direzione perché tutto quanto già è scritto è già in Itere grazie consigliere Biondo e poi il consigliere Ciancio no prima c'era consigliere ah c'è prima lui io me lo perdo consigliere Ciancio prima lei no l'ha detto l'intervento finale della consigliere Biondo ecco perché dicevo che c'ero prima io non perché volessi parlare prima grazie presidente grazie consiglieri e che dire io non ho mai visto tanti atti disattesi atti percorsi memoria di giunte risoluzioni tutto sulla carta poi di fatto ci ritroviamo con delle situazioni che viaggiano come prima visto che qualcuno vuole fare la memoria storica del territorio di quello che succede e vorrei ricordare che questo argomento e quello che si è fatto nel municipio con lo sportello antiviolenza è nato per problemi gravi l'ho ripetuto l'altro giorno in commissione c'era un autorevole funzionario del municipio quei pochi soldi che sono arrivati per fare uno sportello antiviolenza sono venuti fuori perché qualche donna ha dovuto ha avuto delle violenze al parco della Caffarella non so se vi ricordate sono successe molte cose brutte nel nostro territorio per cui è ovvio il territorio e la violenza sulle donne non è che guardano indirizzo oppure luogo o identità varie a me preme che il Movimento 5 Stelle dopo tutti gli atti se volete ne posso citare qualcuno diventa chiaro rispetto agli impegni dire oggi la mozione è superata perché era un'interrogazione bene se è vero che tutti gli atti che avete intrapreso questo è un atto che deve essere votato assolutamente perché rafforza quello che voi avete iniziato a fare se invece andiamo a celarci dietro il fatto beh noi abbiamo iniziato non c'è bisogno di approvare potevi fare interrogazione cioè questa è un'assemblea di un municipio di 340.000 abitanti dove si può esprimere oggi sul fatto che dobbiamo ribadire che un impegno formulato dalla grazie 310 rettifica giusto grazie consigliere ma non è una questione di numeri e di popolazione è una questione di volontà io ho apprezzato l'intervento in commissione del presidente della commissione che l'altro giorno ha ospitato e ha trattato questo argomento si è reso conto della relazione che ha fatto il nostro funzionario e quindi rafforziamo cioè ogni volta ci deve essere una contrapposizione perché voi avete andiamo a guardare che ha sporcato l'acqua prima rispetto a questi argomenti io mi ritrovo spesso a dire che alcuni argomenti come il regolamento che abbiamo trattato che è di tutti e come soprattutto questi soldi ben spesi che dovranno ancora arrivare se poi gli atti cammineranno con forza basta guardare al 51 che abbiamo chiesto e a tutti gli atti che abbiamo approvato all'unanimità poi non si è saputo nulla quindi io inviterei guardate se voi guardate gli interventi dei vostri colleghi in Campidoglio tutti quando nessuno veniva interrotto tutti potevano dire di tutto e di più allora registriamo le mozioni le interrogazioni si vedono i cittadini capiranno se uno divaga o meno quindi evitiamo di fare commenti allora io vorrei un po' d'ordine finisca il suo intervento consigliere Ciancio cercando di attenersi al tema come tutti i consiglieri pentastellati in Campidoglio se li guardi Presidente e qui non siamo in Campidoglio siamo al Municipio Settimo io guardo il Municipio Settimo lì c'è un'Assemblea Capitolina che è diversa e anche nel Municipio io guarderei un po' tutti quelli che parlano in Campidoglio non solo i 5 Stelle vogliamo parlare di alcun altri non le conviene allora vogliamo andare avanti prego se mi racconti la parola eviti di fare la scelgiudicata scusi lei mi ha interpellato io ho risposto vado avanti vado avanti certo dicendo quindi che mi auguro per che il Movimento 5 Stelle non vada dietro queste supposizioni ideologiche dicendo che si deve presentare un'interrogazione su questo argomento l'interrogazione ha una valenza di interrogare e rispondere fine mentre una mozione dà un segno politico di un'aula che vuole esprimersi in questa direzione finisco quale intervento grazie ai consiglieri ci sono altri interventi c'è il consigliere Biondo prima della consigliere Biondo vorrei fare un piccolo intervento anch'io quindi vengo lì mi dispiace per Giuliano vicepresidente oggi fa avanti allora dovrei dare la parola a lei no alla consigliere Alzitoli esatto grazie sempre un piacere allora adesso mi alzo e cerco di leggere qualcosa che mi sono appuntata mentre mentre si parlava purtroppo da lì non parlo non devo intervenire però qui posso anche parlare abbiamo del pubblico oggi io penso che sia pubblico che magari è molto interessato al problema l'abbiamo detto tutti è un problema grave noi ci crediamo che è un problema grave e quando la consigliera la Zagera all'inizio ha fatto tutto l'escursus del passato spiegando che in tre anni se ne è parlato tanto ma non si è fatto niente indipendentemente indipendentemente da contrasti col presidente del municipio non contrasti a noi non importa questo cioè voglio dire se sei chi governa i tuoi problemi non devono assolutamente colpire i cittadini allora in tre anni nella scorsa consigliatura mi sono divertita anch'io a leggere tutti i verbali delle commissioni elette mi sono veramente divertita perché era un punto all'ordine del giorno in tutte le commissioni che devo dire non sono state moltissime nella scorsa consigliatura si parlava sempre di questo si parlava di quello che la consigliera la Zazza ha già detto io dico veramente è un problema serio lavoriamoci lavoriamoci tutti insieme però se un'amministrazione è già iniziato a fare qualcosa perché è veramente convinta che il problema sia serio è veramente convinta penso che quello che ha esposto il consigliere principato lo faccia vedere sono stati fatti tutti gli atti necessari per poter far diventare realtà qualcosa che nel passato si è solo scritta su carta indipendentemente poi dai risultati e dalle ragioni che hanno fatto restare su carta io ricordo che i cittadini le donne che subiscono violenza o i cittadini in toto che subiscono violenza indipendentemente dal sesso provano vivono una situazione drammatica che non può diventare una bandieruola politica e vediamo chi si intesta chi si intesta la paternità di quello che viene fatto ok? noi siamo consapevoli che è un problema grande talmente grande che subito appena insediati abbiamo cominciato a lavorarci non ci sono soldi è vero però la prima cosa che è stata fatta quando è arrivato il direttore lo sapete nella riorganizzazione degli spazi ve l'ha raccontato è cercare di capire cosa si può fare e quello che si può trovare è stato spinto il comune a partecipare al bando spiegando al comune appunto che siamo il municipio più popoloso di Roma e quindi se mai ci sarà possibilità per un municipio sicuramente non verremo trascurati perché diciamo che la mozione è superata perché forse dovete leggerla non è che sta chiedendo lo sportello domani mattina la mozione chiede altro chiede di dare mandato alla giunta di dare mandato al direttore agli uffici competenti di avviare una rapida cognizione degli spazi disponibili questo chiede ed è stato fatto marcato verificare se sussistono le condizioni per confermare la disponibilità dello spazio già individuato presso la sede di Villa Lazzaroni fatto sì sì è già stato detto e l'ha già detto il direttore ha anche informato che qualora ci saranno spazi a fortifiocca nella riorganizzazione ha dato già la sua disponibilità eh ma qualora hai dei dubbi dei dubbi non è un dibattito e c'è tutta collega scusi consigliera volevo solo dirle che si rivolga all'aula non al pubblico se le viene insomma no perché io non la vedo dove guarda però mi dispiace che oggi si sta facendo un spettacolo per un pubblico quando non si lo faccia però gentilmente lo faccio assolutamente ha ragione lei e lo farò quindi dimenticherò il pubblico che sta lì e che mi dispiace che venga strumentalizzato ogni volta mi dispiace però lo deve dire all'aula grazie lo grido all'aula però perché oggi si sta facendo qualcosa che nel passato non era stato fatto il bando il municipio settimo è stato capofila nel mandare avanti il bando e questo vorrei dire che è già un messaggio il direttore sta cercando di trovare gli spazi nel settimo municipio a Forti Fiocca dite voi ancora non c'è la firmetta sotto ma lo fate lavorare quest'uomo voglio dire dire che ha già preso a cuore la situazione qui non è che chiede chiede di verificare se sussistono le condizioni per confermare non chiede confermare perché io questo è italiano e lui sta verificando già voglio dire la mozione mettetela come vi pare o la facevate più stringente ma per noi è superata perché il direttore sta già lavorando in tal senso l'assessore sta lavorando in tal senso sta facendo di più di quello che è scritto in questa mozione il presidente sta lavorando in tal senso insieme magari oggi pomeriggio potete venire qui al settimo municipio c'è l'assessore comunale in Sala Rossa che per il piano sociale magari potete fare domande perché sì esattamente potete anche fare domande per cercare di capire dov'è che vogliamo andare perché interrogazioni sì sono interrogazioni perché quando ci sono degli atti così evidenti di posizioni già intraprese di azioni già iniziate la mozione che chiede di verificare se sostistono le condizioni di confermare ma c'è voglio dire però per cortesia silenzio lasciamo finire se no io devo dare più tempo penso che alla fine il pubblico che non guarderò alla fine di quest'anno poi io non dico che ci vorrà molto tempo poi tirerà le fila e vedrà quello che è stato fatto nei tre anni della passata consigliatura dove il problema era importante è ugualmente come oggi e quello che viene fatto oggi ce lo sapremmo dire da un po' di tempo perché mi è stato detto risoluzioni e memorie di giunta eccetera eccetera non vengono mai attuate lei ha scarsa informazione consigliere Ciancio perché si legga tutte le memorie di giunta e mi venga a raccontare una una delibera di giunta che ancora non è stata attivata le vate a leggere sono tutte sul sito quindi poi magari ne riparliamo per quanto riguarda invece gli atti che sono che sono approvati dal consiglio ricordo che la giunta è chiamata a riferire in controllo e garanzia e mi immagino che quindi il presidente lo farà su quello che la giunta sta facendo sugli atti approvati dal consiglio chiedere per sapere grazie allora ovviamente se continuate colleghi consiglieri a nominare gli altri colleghi poi per fatto personale in questo momento io devo dare la parola ovviamente al collega Ciancio un minuto però per fatto personale grazie presidente vedo che lei sa ben tenere l'aula e capire che un consigliere deve assolutamente guardare ai consiglieri e non deve guardare il pubblico come non deve nominare consiglieri col nome e cognome altrimenti può ha il diritto di replica grazie presidente io le posso citare gli atti col nome e cognome disattesi ma non esiste qua lo sapete pure voi a ogni livello c'è una particolare attenzione a formulare degli intenti su carta ma la risoluzione del problema non è stato assolutamente avviato e concepito ma non ci culliamo dietro due azioni che il municipio ha intrapreso e le sbanderiamo come se fosse l'unica soluzione vittoria di questo municipio per fare alcune cose si sono distratte delle somme quindi capisco a cosa intende che questa amministrazione ha fatto delle cose e giustamente ha preso delle decisioni è passato il minuto grazie non è passato non è passato ma come non è passato mi sembra che sono passato il telefono della segretaria grazie presidente grazie grazie la ringrazio lei ha citato il regolamento quanto è importante non guardare il pubblico io prima ho fatto un errore presa dalla foca ho guardato il pubblico non avrei dovuto quindi lo riconosco però riconosco pure che il regolamento va rispettato sempre quindi le tolgo la parola molto cortesemente grazie allora a questo punto darei la parola alla consigliera Biondo che aveva richiesto di fare un intervento grazie torniamo al merito della questione perché stavamo divagando un po' troppo e come dice giustamente lei queste questioni non vanno strumentalizzate per cui avrei avrei apprezzato degli interventi più simili a quelli del consigliere principato innanzitutto voglio ringraziare la consigliera Lazzazzera per la testimonianza iniziale perché fuori da ogni da ogni sarcasmo penso sinceramente che il suo intervento sia stato utile a fare capire all'aula e a chi eventualmente ascolterà questo consiglio che l'impegno che oggi prende questo municipio è un impegno che viene da lontano perché le commissioni delle lette che si sono riunite varie volte nella scorsa consigliatura hanno fatto un lavoro molto difficile che però ha portato a un risultato che oggi è patrimonio comune che è l'oggetto di questa mozione ovvero un posto specifico in una delle due sedi del municipio una stanza esatta era stata individuata per metterci uno sportello contro la violenza sulle donne nel frattempo è successa una cosa importante che fino a pochi mesi fa non esisteva ovvero è uscito finalmente un avviso pubblico della regione Lazio che ringraziamo per questo che ha dato la possibilità ai comuni del Lazio e al comune di Roma di rendere una volontà una realtà e questa è una cosa che non dobbiamo omettere nella nostra discussione perché la volontà di andare in una direzione chiaramente è condivisa è nella memoria di giunta che noi avevamo letto non è che non avevamo letto ma proprio perché avevamo letto la memoria di giunta che purtroppo essendo una memoria rimangono parole volevamo capire quali erano poi i fatti che avrebbero seguito quella memoria di giunta e allora forse sarebbe stata superflua questa mozione se né noi né alcuni consiglieri della stessa maggioranza scoprissero solamente a seguito di una richiesta specifica che cosa sta facendo questa amministrazione su alcune questioni specifiche magari potremmo anche dare delle comunicazioni all'interno delle commissioni e ci risparmieremmo una discussione a vostro dire inutile che invece noi pensiamo sia sempre utile soprattutto perché vi ricordo questa mozione chiede una cosa specifica e io forse perché mi sono confusa però rifaccio la domanda esplicita dato che poi noi parliamo anche a chi sta fuori di qui noi chiedevamo di individuare di confermare la disponibilità di quel locale dentro Villa Lazzaroni già individuato dalla precedente commissione delle lette e sul quale avevamo iniziato a fare un lavoro il consigliere principato nella sua nella sua relazione e lo ringrazio perché su questo è stato chiaro ha però concluso dicendo che si è dato si è comunicato al comune di Roma che ove resteranno liberi e disponibili alcuni spazi sicuramente una delle priorità di questa giunta è quello di destinarli a uno sportello antiviolenza municipale poi in un successivo intervento invece mi è stato detto che lo spazio è stato individuato allora io non ho capito dato che se volete noi possiamo sicuramente cassare di dare mandato al direttore e agli uffici competenti di avviare la ricognizione perché questo lo diamo per fatto come dice la consigliere Zitoli tic bravi è stato fatto ma è il motivo per cui volevamo discuterne la scorsa volta invece però non abbiamo capito se le condizioni per confermare non che ci sarà eventualmente uno sportello in questo municipio ma per confermare che quello spazio dentro Villa Lazzaroni che era stato individuato è ancora disponibile quindi è stato comunicato al Comune di Roma che per il settimo municipio sarà quello lo spazio da dedicare a uno sportello municipale è stato fatto o no e questo è il motivo per cui fino a che non abbiamo questa risposta non possiamo ritirare questa mozione grazie altri interventi giusto veramente mi ha scosso l'argomento mi ha scosso allora vorrei sostituire intanto uno scrutatore che va via il consigliere Tosatti va via e sostituisce come scrutatore la consigliera vediamo la consigliera dichiara e passiamo ora alle dichiarazioni di voto ci sono dichiarazioni di voto? non ci sono dichiarazioni di voto? lei vuole fare la dichiarazione di voto? consigliere Principato grazie presidente colleghi consiglieri allora io credevo di essere stato abbastanza chiaro con tutti i passaggi che sono stati effettuati sia a livello tra virgolette politico no almeno di funzione e anche a livello amministrativo cioè forse non non è stato chiaro prima cerco di spiegarmi un attimino meglio grazie a questo municipio si è sollecitato il comune per la partecipazione al bando punto uno attraverso una collaborazione dinamica rapida incisiva costruttiva tra uffici municipali e per questo ringrazio il direttore e i dipendenti che si sono impegnati in questo presidente del municipio dipartimento comunicazione cioè tutti gli attori che avevano un ruolo in questa cosa hanno accelerato per fare in tempi brevissimi tutte le operazioni necessarie per quanto riguarda il discorso del bando per quanto riguarda la parte relativamente alla stanza che è quella che chiedeva la consigliera prima anche su quello sono state fatte tutte le azioni necessarie quindi l'ultima nota è quella del direttore che mi correggerà se dico una cosa per un'altra se sbaglio a dire qualcosa al dipartimento dove rinnovava la disponibilità da parte di questo municipio di dedicare una una stanza all'interno della sede di fortifiocca cioè non è che è stato detto in maniera generica vediamo se abbiamo uno spazio in municipio forse ci pensiamo è stato detto è stata indicata perfino una sede all'interno del municipio ribadisco per i cittadini più che altro e per chi ci segue perché i consiglieri lo sanno i consiglieri lo sanno magari non tutti i cittadini lo sanno in questo momento è in atto una riorganizzazione non solo del personale ma anche degli uffici quindi delle sedi fisiche è in corso e quindi in questo momento come si va a dire la stanza sarà quella io già aver individuato una fra le due sedi secondo me è un passo importante stante la situazione stante la situazione attuale per questo motivo concludo con la nostra dichiarazione di voto il Movimento 5 Stelle si asterrà si asterrà per un motivo ben preciso perché grazie alla sinergia tra le forze che abbiamo detto prima Dipartimento Presidenza del Municipio Direttore sono stati fatti tutti i passi necessari per cercare di arrivare all'obiettivo il prima possibile nel migliore dei modi ma non boccia l'atto non boccia l'atto perché condivide il tema condivide il tema della violenza condivide l'impegno che viene richiesto dall'opposizione su questo argomento siamo assolutamente d'accordo su questo siamo d'accordo su questo ma non possiamo approvare un atto che ci impegna a fare qualcosa che abbiamo già fatto cioè secondo noi per questo motivo il Movimento 5 Stelle si asterrà al voto grazie Consigliere Avetrotti Grazie Presidente il Partito Democratico invece che ha presentato questa mozione ovviamente voterà in modo favorevole e ci dispiace però che non si sia compreso veramente fino in fondo l'impegno che chiedevamo a tutti abbiamo invece accettato ha preso con favore i passaggi che sono stati fatti lo dicevo prima vista la sovranità di questa aula veramente non ci sarebbe nulla di male anzi se si rafforzasse la volontà di ognuno di noi attraverso un voto favorevole che darebbe un'ulteriore forza all'amministrazione attuale alla Presidente al Direttore insomma a chi è e ha competenza per questo di individuare veramente quello che è una richiesta che da troppo tempo purtroppo è rimasta inascoltata questa opportunità che invece si è aperta grazie all'avviso pubblico pubblicato dalla Regione Lazio ovviamente potrebbe rimettere in gioco la partita e potrebbe soprattutto dare finalmente una soluzione a quelle firme che sono state raccolte per questo in un'ottica ovviamente di collaborazione e di sostegno all'azione amministrativa attuale il Partito Democratico non potrà ritirare l'atto anzi lascerà all'Aula la possibilità di esprimersi ribadendo che ci troverete sempre dalla parte di chi invece sta cercando una soluzione positiva per quello che ci viene richiesto grazie ci sono altre consigliere toti i popolari del settimo municipio sono d'accordissimo rispetto a questa proposta finalmente e io richiamo anche rispetto a questo 5 stelle perché diano subito esecutività rispetto a quello che hanno già testimoniato con l'espressione della Giunta e perciò si arrivi finalmente all'apertura di uno sportello antiviolenza nel nostro municipio altre dichiarazioni di voto non ce ne sono passiamo direttamente alla votazione favorevoli contrari il consiglio è chiuso un'apertura che faccio attra